Ciao, creatura. Io sono Eka Desplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR. Allora, siamo su questo gioco, Heroes of the Storm, perché cosa è successo? È successo che avevo preparato una serie di giochi rilassanti, ma a quanto pare quello che per gli altri è rilassante non è rilassante per Eka Desplendente. Perché ho provato a giocare a questo gioco che su YouTube e su Google lo consigliavano come gioco rilassante, ma a quanto pare a me non l'ha fatto per niente rilassante. Ho fatto un nervoso giocandoci e quindi ho detto, sai che c'è? Sai che c'è? Un gioco che mi fa davvero rilassare è Heroes of the Storm, perché a me piace distruggere, uccidere e questo è molto rilassante. Cerco di spiegarti il gioco brevemente o anche no, e poi ci facciamo qualche partita insieme. Allora, intanto ti dico che questo gioco è free to play, è praticamente gratuito, lo puoi scaricare gratuitamente e giocarci gratuitamente. Puoi pagare soltanto per acquistare le gemme, se non ricordo male, o i frammenti, aspetta che guardiamo. Le gemme sono usate per sbloccare eroi oggetti, le gemme possono essere acquistate con denaro reale, è l'unico modo in cui spendi i soldi reali. Per il resto, se tu fai le missioni o i giornaliere, puoi guadagnare le monete d'oro. Io per esempio ne ho accumulate 130.825 e con quelle puoi acquistare i personaggi, oppure anche le skin con le gemme o con i frammenti, però comunque puoi acquistare i personaggi. I frammenti, invece, sono usati per creare accessori nella collezione, i frammenti si ottengono acquistandoli con oro. Ah, vedi, quindi si possono acquistare con oro, o aprendo forzieri, io come puoi vedere ho 70 forzieri, perché volevo fare un video dove aprivo tipo 80 o 100 forzieri. E fammi sapere se voglio fare proprio un video ASMR apro 100 forzieri di Heroes of the Storm, e tanto troveremo tutti i doppioni. Potremmo trovare dei personaggi, potremmo trovare delle skin, delle cavallicature, degli adesivi. E tante tante cose, io trovo spesso delle cose doppie, personaggi quasi mai trovati nei forziari, però magari tu potresti portarmi fortuna a creatura, in questo domenica pomeriggio o sera. Comunque, questo videogioco qua ha tutti i giocatori, personaggi, vi faccio vedere. Allora, qua ci sono i ruoli e qua c'è l'universo, sono l'universo Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch e Nexus. Sono tutti i personaggi di questi videogiochi qua, di questi universi, e possiamo trovare il ruolo di difensore. Combattenti e gli assassini, sia a distanza che a mischia, poi i guaritori di supporto. Questi non li ho tutti acquistati, alcuni sono quelli a rotazione che il gioco ogni settimana ti dà gratuitamente. A me piace di più così che comprarli tutti, perché così ho anche una scelta limitata, perché già sono troppi così da scegliere. Se poi li ho anche tutti, forse un giorno li comprerò tutti, li sbloccherò tutti. Ma magari ne vinciamo anche qualcuno dentro quei forziari, chi lo sa. Allora, come missione giornaliera abbiamo gioca due partite usando un eroe di Warcraft, gioca due partite usando un eroe di Starcraft e gioca due partite con un eroe del Nexus o di Overwatch. Quindi praticamente, tranne a parte Diablo, che questa qui è di Diablo, io direi di fare una partita con Tychus. Allora, dopo, se vuoi ti spiego subito cosa bisogna fare, però comunque lo vedrai, è facilissimo. Mi piace forse perché è un gioco ripetitivo, che bisogna sempre fare le solite cose, però in realtà è diverso, perché si sta 5 giocatori contro 5 giocatori. I giocatori vengono pescati nel server random dal sistema e sono giocatori reali che fanno parte europei, insomma. E credo che sia il server europeo, sì. Comunque, di solito becco sempre russi, italiani quasi mai. E, insomma, io gioco contro il computer, quindi siamo 5 giocatori reali nella stessa squadra contro 5 personaggi del computer, quindi è più facile, anche per quello rilassante. Perché se mi metto contro le persone, a fare le partite rapide, mi sclero. E io sono qui per rilassarmi. Questo gioco ha delle musiche veramente belle. E poi, una cosa che mi piace tantissimo, sono le voci dei personaggi, che hanno ognuno delle frasi diverse, in base alla personalità. E che hanno dato a questi personaggi, insomma, mi piace troppo questa cosa. Anche sia le voci che anche le frasi. Adoro, io volo con questi dettagli, sono dettagli non da poco. Poi, ogni personaggio ha dei talenti che tu, durante la partita, puoi andare a scegliere. Io mi sono messa preimpostata, diciamo, tra i preferiti, quelli che, con le quali mi trovo meglio, perché devo sennò star lì a leggere ogni volta e non ho memoria delle abilità. E poi hanno le dotazioni che sono praticamente, come puoi vedere qui, le skin. Io ho scelto questa perché è proprio arrogante, secondo me. Però c'è anche la versione, vedi, da spiaggia, a fusto della spiaggia, con la pistola d'acqua, fucile, pistola. Poi c'è, ah, sarebbero i modelli. Poi c'è la cavalcatura, che ho scelto per lui, questo sobrietelegante dello scuolo, che forse stava meglio con la skin, il modello da spiaggia, non ne importa. C'è anche il surfista, la tavola da surf col borso. Quelle che vedi colorate, così, luminose, sono quelle che ho, quelle che hanno il lucchetto, non le ho. Si potrebbero acquistare, però sono già soddisfatta di quelle che possiedo. Qua ci sono gli standardi, ovviamente quello di Halloween. Poi qui c'è lo spray, che io chiamo adesivo stickers, e per lui ho scelto questo, che è bang bang, in realtà c'è scritto piu piu piu. E poi, che sarebbe il suono quello di sparare, no? Qua ci sono gli annunciatori, io qui non ho, ho quello, annunciatore predefinito. E qui sono le, gli audio, le frasi. Tipo, adesso partirà con un diavolo, era ora, se no potrei mettere un uomo cattivo, cattivo. Andiamo. Sono un uomo cattivo, cattivo. Bellissimo. Queste invece non le ho, non le posso selezionare. Ma è così che si finisce male. Guarda e impara. Potrei farlo tutto il santo giorno. Lasciamo il diavolo, era ora, che bellissimo. Lui ha delle frasi simpaticissime, ma in realtà a tutti. E in un modo o nell'altro hanno delle frasi, vabbè, quello più... Io farei un video solo se facendo di sentire le frasi, per dirsi. Vabbè, è una fissa mia. Vabbè, lui è bellissimo. Le ho tutte. La vita è debole e fragile. Miseri mortali. Imparerai a mostrare rispetto. Nessuno può fermarmi. Tutta la vita finisce con la morte. Però questo ha la voce, credo, più bella di tutti. Adesso la faccio sentire. Nessuno può fermare la morte. Ne è film. Questo è proprio black metal, secondo me. Lo amo. La morte è oltre la tua portata. Alla fine, tutti cedono alla morte. Ecco, mi piace perché insomma i personaggi sono abbastanza agguerriti. E poi c'è lei, che è guaritrice. E ha queste frasi qui. C'è sempre speranza. E infatti è la mia preferita dei guaritori. I nostri destini si uniscono. Sublime. Prego perché tu possa trovare la pace. Bellissima, è super. Mamma mia. È super good vibes lei. È il contrario di tutti gli altri. E beh, anche questo ha delle frasi non troppo... Tipo, credo... Sì, tipo... Ciucu, 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 ciucu. Fa freddo qui o sono io? Scusa, scusa, mi spiace, scusa. Perché anche questo, infatti, è quella che ho usato di più. Perché c'è un livello 27. Ha questa skin troppo bucciosa. Anche questa è bucciosissima da usare. Però è una vera... Se la sai usare bene, è una spina nel fianco, proprio. E poi altre... In realtà sono tutti belli questi. Ah, questo poi c'è l'accento... Ah, ci sono... Aspetta, ce l'ho. C'è uno che ha l'accento del sud. Ma mi sa che non ce l'ho neanche. Beh, questo ha l'accento russo. Bellissimo. Insubordinati e volgari. I miei occhi sono sempre aperti. Sono più mostro che uomo. Gli infestati risorgeranno. Sono venuto ad augurarvi la buonanotte. È bellissimo. Anche questo è guaritore. E... Mamma mia, mi sa che non ce l'ho quello con l'accento... del sud. Eh, sarebbe questo. Non so se mi fa sentire. Ah, ma forse mi fa sentire lo stesso gli occhi. Chi sto farà male pure nell'aldilà? Ahahahah. Nessuno è più cattivo di me. Tempo di uccidere. Ecco la vendetta di Zulgin. No, vabbè, io adoro sti cosi, te cosi che mettono gli accenti, cioè... Certo, bellissimo, adoro. Ah, poi c'è questo che è metallaro. Io ho preso la skin, black metal. Guarda che bella che è. Quelle chitarre dietro, fatte a bara e ad ascia. Beh, è stupendo. E questo ha... Morte al falso metallo. Scateniamoci. Ti aspetto nel parcheggio per sistemare la cosa. Scordatelo. Ammira e stupisci. Ma è bellissimo che poi la sua... La sua mossa più figa, diciamo, è tipo poco. Cioè, lo penso così. Beh, vabbè. Niente, stiamo perdendo troppo tempo. Cioè, io mi diverto e ogni tanto mi metto qui ad ascoltare gli audio delle voci. Perché ho solo dei problemi mentali, evidentemente. Però, bellissimo. Ah, e guarda questo che skin che ho preso. Cioè, quanto è industrial. Bellissimo. Anche. Scusa, l'ho tagliato. Bello, questo è tipo un parassita che ti aiuta perché praticamente è un parassita però buono, diciamo. Perché si insinua tipo nei compagni di squadra. E li protegge, gli aiuta. Quindi è bellissimo, no? Però è tipo un parassita lì, no? E ha anche questa skin qui di Halloween che è bellissima. Sì, magari per qualcuno sarà schifosa. Però a me piace forse di più questa. E' proprio molto, fa molto alien. Vabbè dai, facciamo una partita insieme. Ah, porco diavolo, era ora. Adesso vediamo a Luna e un quarto se qualcuno mi gruppa. Tra l'altro mi piace perché ogni tanto parlano tra di loro i personaggi in autonomia. E se sono dello stesso universo magari dicono cose carine. Ma se non sono dello stesso universo litigano tra di loro. Ecco. Allora c'è Zaira che è di supporto. Poi c'è questa qui, Tenente Morales, che è un guaritore. Oh, il mio preferito è il macellaio. Non te l'ho fatto vedere prima perché non parla. E poi c'è questo che è un assassino a distanza. Mi sembra equilibrato abbastanza bene. Beh, sì perché lui è un assassino di mischia. Ci sta, non c'è neanche... No, va bene, va bene. Va bene così. Siamo molto qui, il gioco già è equilibrato. Selezionare il gioco e prepararsi all'attacco. Sei pronto ordunque? Sarebbe anche ora. Mi sta bene. Il gioco si fa con il mouse e con i tasti. Lo continuo a inizio qua. Dieci secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Iniziate le operazioni di combattimento. Mi dà fastidio parlare sopra i personaggi, quindi sto setta. E con la tastiera Q, W e con la Q faccio una mossa dove sparo di continuo un bersaglio. Con la W, con la W, sparo una bomba così. E con la Q. Tutto il santo giorno Mi sta bene Oh, abbiamo ucciso noi Gli unici orchi buoni sono quelli E' anche se Con lei come vedi Fa un salto in avanti Un po' per Il guaritore scappa Sono tutti qua No, voglio andare giù dal macellaio Perché il macellaio ha Un bellissimo personaggio Che insomma dopo lo prendiamo E' proprio cattivo Guarda com'è, è grosso Praticamente devi Cioè, è meglio se lo aiuti Non mi sta andando Io voglio andare da lui, aiutarlo Il mio parla ogni tanto Porca miseria È morto Stavo morendo anche io Ok, ho stretta la torretta Praticamente Ho ucciso io Sono soddisfatta Vedete, sono uscita io qua E Qua Vedi, faccio prima Se ho il guaricino Ti preferisco Abbiamo riadattato i produttori mi sta rubando 3 kg il macellaio ma io glielo sto servendo proprio glielo sto servendo vabbè sto io qua non c'è resta nessuno allora il macellaio appunto sto dicendo se tu uccidi i personaggi quegli avversari lui mangia la carne e più carne mangia quando arriva a 200 di carne diventano inarrestabili fortissimo adesso io sto facendo perché ogni mappa ha delle missioni diverse però questa mappa c'è sempre questa missione ecco non è che cambia però dipende dalla mappa adesso bisogna conquistare questo campo qui e quando arriviamo qui a 100% diventa compare diciamo un robot gigante che tu puoi che poi io posso entrare dentro a te non viene nessuno a aiutarmi mi incammino mi tocca fare tutto da solo ho chiamato di forti qua ci lascio le penne aspetta che vado a curarmi questa qui è di per rigenerare la salute in mana la barra sopra verde è la salute e sotto c'è il mana sono andato io e adesso io entro di guaritore di amontirizzare la mente e io adesso sto comandando sono io dentro che sto comandando adesso ho rubato il robot con l'amont una specie di barriera che protegge i miei compagni con l'acuto pugno forte e con la W2 ho fatto questa mano che su spagna tutti i minions qua doppia uccisione vabbè ho rubato l'uccisione 3 ho rubato l'acqua protettore sovrattacco la tua squadra inizierà ah niente vabbè andiamo direttamente all'uncleo tornappolo con questa mano ok 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 grazie a delle cure bella c'è niente ok 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 abbiamo già vinto ma non ci ha vinto è già vinto è già vinto a livello è a livello è durata molto poco e allora la missione diciamo generica aspetta che parla che sarà macellaio ovvio tempi vabbè sono 59% del tempo della scuola vabbè anche merda è che ti spiego mi concentro sul gioco comunque va bene poi se c'è macellaio nella partita per forza macellaio va tra i migliori perché è il più forte se hai macellaio e non vai tra i migliori c'è qualcosa che non va in te lo sai usare male oppure può succedere che gli altri non sanno come si usa macellaio e non ti aiutano a fare carne e quindi non riesci ad andare a infipì non diventi forte come meriteresti ecco io quando c'è macellaio cerco sempre di aiutarlo a fare carne e a me non interessa andare tra i migliori mi interessa solo giocare bene ecco cos'è che ti volevo dire anzi la missione diciamo è quella di buttare giù tutte le torrette e poi oggi in questa in questa partita non le abbiamo buttate giù tutte ma non importa buttare giù le torrette e buttare giù il nucleo senza farsi uccidere e ammazzando gli altri che cercano di fare la stessa cosa ovvero buttare giù le tue torrette e arrivare al tuo nucleo e buttarlo giù prenderei un guaritore tanto per farti adesso qua mi mancherebbe poco arrivare al livello 8 ma la missione l'ho già completata quindi dovremmo prendere un altro personaggio che sia del nexus di overwatch o di warcraft vediamo tra questi che si potrebbe prendere e allora a me piace tantissimo per esempio questa che è jaina che dovrebbe in realtà essere così normalmente però io ce l'ho in versione demoniaca lei ce l'ha in realtà su con i demoni però io ce l'ho in versione demoniaca quindi fa ridere che ha questa cosa e questa qua ha pochissima vita perché è un assassino a distanza dovrebbe stare dietro a quelli grossi e sparare le magie però io quando la gioco bene faccio un sacco di casino è da tanto che non la gioco potrei giocare male soprattutto se devo spiegarti proviamo non ti assicuro non ti assicuro di andare a mfp però possiamo divertirci comunque ecco normalmente non ha queste frasi è che è un peccato sta skin bellissima guarda com'è bella guarda che muscolosa che è cioè non potevo non sceglierla le altre hanno le frasi tutta è buonina anche quella allora abbiamo la guaritrice questa qui è un elfo guaritore questo vabbè non faccio in tempo sono caricati velocissimi la battaglia inizierà fra poco ero l'immonda creatura e ha detto che cattivo poverino povero cupcake mi so che è una ragazza vabbè io ho detto i cancelli si apriranno fra dieci secondi cinque quattro tre due uno avanti combattete ok ok vediamo cosa dice annegate nel vostro terrore wow io devo stare attenta stare indietro perché ho poca vita e mi ammazzano subito mi ammazzano subito c'è è frustrante quando c'è gente che non sa giocare no abbiamo ucciso il peggio sì mi piacciono un uccisione doppia uccisione uccisione c'è stiamo facendo una strage una fine prevedibile questa anche aiuta il bisogno anche di mana furia omicina che non si riesco a prenderlo ma niente mi ha colpito cioè guarda quanto danno mi ha volto vabbè ho preso quella era la mia idea mi ha preso vita e mana aspetta andrò ad aiutare ma bello ti ha preso prendiamo un pallino un pallino che è il globo che ho chiamato un pallino e anche assist dai 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 preso il tributo di questa di questa mappa qui era quello questi sono i mercenari che ti aiutano a spaccare tutto ottimo l'abbiamo ucciso noi questa è quella qui adesso è quella che ti mostra chi l'ha ucciso e l'ha ucciso Scegli una come ordine il signore di Elixir Qui bisognerebbe andare a difendere Vabbè, prendo io il tributo se nessuno viene Aiuto ad aiutarmi Laccato Aiuto, aiuto Ok, se nessuno viene ad attaccarmi dovrei farcela da sola, vediamo Ok, bisognerebbe aiutarsi ma tante volte no Ok Abbiamo difeso La nostra torrente insomma E qua, come puoi vedere, vedi C'era la mappa Dove vedi tutto il territorio E si vede che Dove è il punto in cui Comparirà Il tributo e poi Raccogliete il seme E non preoccupatevi E adesso prenderò il terzo tributo 3 su 3 e vedrai cosa succederà Che servitori devoti Che servitori devoti I miei terrori schiacceranno i vostri nemici Scegli un talento La tua anima è mia La tua anima è mia Sono comparsi quelle creature strane Che mostri tipo una pianta carrua che palle sono già al nucleo hanno voglia di finire in fretta sti qua sono uscita con quella mossa lì ho chiaggiato e tutti ne hanno approfittato per uccidere ho uscito ucciso aspetta io dovrei sentarmi stiamo facendo un disastro sono stata morta e e Eroe della tempesta Ciò di entrare Abbiamo vinto Vinto Vi siete fatti valere, eroi MVP Collezionista di semi Vabbè, poteva andare molto meglio Non ha votato nessuno Quindi abbiamo Missione, un altro giocatore di Warcraft Oppure Nexus Overwatch Mi piacerebbe farti scegliere ma Non abbiamo preso guaritori, vero? Ti faccio vedere come funziona avere il guaritore Allora prendiamo l'unico guaritore che c'è qua No, c'è anche lei C'è lei Bellissimo, guarda che idea che è Oppure c'è anche lui Eh, c'è anche quella palpa verde Volendo Oppure quella tipo versione papo natale Io ce l'ho così perché l'ho abbinato a queste cose Perché mi piace abbinare le cose, ovviamente Ah, c'è anche lui come guaritore Ma una volta lo usavo tantissimo Adesso non mi piace più tanto, onestamente E lei è quella che so usare meno Lui so usarlo molto di più Tra l'altro lui può dare anche E l'une, concedici la forza Cose che gli altri non danno Per esempio il mana Può sia dare cure E che dare mana Con il tasto D Ogni 8 secondi Adesso vediamo chi ci gruppa Se ci gruppano Ok Sono l'unico guaritore E gli altri sono tutti assassini Vabbè Ce la facciamo benissimo Credo che Fenix non abbia il mana Dopo controlliamo però Forse sì Non so perché Fenix non lo uso tanto È una specie di robottino Lo avrò usato poche volte Dai Gus lo sappiamo usare bene E lui ha bisogno del mana Quindi gliene daremo tantissimo No, Blaze livello 1 Oh no Speriamo che sia Che sappia usarlo un pochino A giocare di personaggio Sennò siamo 4 Sennò siamo 4 Come giocare in 4 poi Preparatevi alla battaglia Eroi Mi sento più forte È bello vedere un degno rappresentante dell'alleanza Vieni Il campo di battaglia ci reclama Mi piace che parlano tra di loro Vedono Non sempre si iscrivano tra di loro Anzi La battaglia ha inizio fra 10 secondi Dopo prendiamo Deathwing 5 4 3 2 1 Che la battaglia abbia inizio Dai Gus è rimasto là Da solo Che sto facendo No perché allora vado al centro Se lui non viene a giocare Ecco la cosa Vado al centro Sono anche lui al centro Ok Mi ha salvato la vita Sì non lo so usare questo gioco Vedi io posso creare quel Adesso ti spiego E muoio Sono tutti in alto Io sono guaritore Devo stare per forza Come gli altri Perché li devo guarire Devo salvagli la vita Devo salvare le vite Con la Q Do la vita La La salute Con la W Non ho ancora capito Il bridge È 97 anni E con la E Crea Tipo stumbo Cosa vuole I personaggi Che palle Cosa vuole Blaze Sta morendo Ma cosa va da solo Lì Questo non sa giocare Da suo muore Mi sta facendo Precare tutto Il mano No ho già capito Che questa partita Non sarà così rilassante Perché c'è gente Che non è capace di giocare Che vuole Dicati come Ecco ci ho fatto Non posso perdere Tempo Quello lì Per niente Scegli un talento Ma non Mi sta Per uscire Qua bisognerebbe Difendere Ma non lo devo fare Io che sono Il guaritore Capito Niente Questi non sanno Giocare bene Non sanno Giocare bene Come gli altri Così sarà Sarò lì fra poco Li ho avvisati Che adesso Sto arrivando Ma dovrebbero Forgela Porca miseria L'hanno preso Un po' Questo è un altro E scato Di solito Sono molto più brava A giocare Ma sono un po' Concentrata Su chi è Avanti Grazie per le cure E che se non parlo Poi è noioso Vogliamo vedere Chi conquista Il tre Non vuoi la perfezione Vuoi il relax Dopo prendiamo Il personaggio Più arrogante Cioè Trago Mi prendo io Se non sono alberto Mi è sprecato Dare in mano A quello lì Non lo so Usare Scappa 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 Eravamo contro Manoli Non so Tutto Poi Questi a giocare Vabbè Così vedi Anche Perché Dico Che è diverso Per ogni partita In fase Al giocatore Ecco È rimasto L'amore Così che non dobbiamo fare Pagate il truogo Ottenete In famiglia Sì Vabbè Solo questa parola Talento Quanta generosità Forse è solo quello Il da scherz Come cazzo Sì Siete guadagnati Il mio favore Eroi Che il vostro nemico Conosca La mia ira Sperriamo l'attacco E dove dice Narius Un nemico ucciso Torna alla terra Eh l'unione fa la forza Bisognerebbe restare uniti Però Oppure ci si divide Tipo Due Uno due Capitano Però Qualcuno al centro Qualcuno sopra Qualcuno sotto Da Comunicare E la maledizione Almeno Un'azione Da manuale Niente Spenderebbe Spenderebbe Pizzacolo Tutti Porca loca Detta Si sono buttati Tuttieri Negli schier che te lo permette di fare, ok? Ma se hai un altro tipo di personaggio non ti puoi cioè buttare così, capito? Io per esempio devo stare indietro perché un guaritore che non è tanto forte diamo quasi Sì, adesso vado a curarli No, adesso anche il boss Quello lì si è rotto le scatole, prendiamo tutti i boss che facciamo finita, questa partita sta giunturando anche troppo Ho messo la torretta troppo vicina Ho messo la torretta troppo vicina Sosservato Ok, arrivato mai, potremmo farcela Ok Perfetto, abbiamo vinto Hanno preso tutti i mercenari La vittoria meritata, amici E adesso i mercenari, i mercenari sono andati già in ocleo e stanno già vincendo su Ma che cacchi Mi sei bloccato il gioco Portezza distrutta Furia omicida Vabbè, così vedi anche cosa succede quando si muore Quando si muore ti viene, devi aspettare dei secondi per tornare in vita E più muori e più secondi hai Però abbiamo vinto Ho fatto in tempo Vabbè, così vedi anche cosa succede quando si muore E mi ha laggato Ecco M-V-P Ci sono comunque come salvavita quattro cure fondamentali Ho preso anche un punto Toh A caso Ho votato uno a caso E i voti sono segreti, cioè no? A noi Ciao Facciamo l'ultima con Deathwing Perchè così vedi la potenza La cattiveria Poi le frasi Soprattutto Quali meno che la polvere È la mia frase preferita E... La skin ce ne sono tante Ho scelto questa che è la basic E... Cavalcatura non le ho Preso questo E con i cini Io sono il distruttore E ci hanno gruppato subito Subito Allora Il mio personaggio non può essere curato da nessun guaritore Però Quando Schiaccia la zeta Che sarebbe quella per gli altri Della cavalcatura Lui vola E rigenera Salute E... E basta Adesso vedi Provo a giocare bene A concentrarmi Dipende anche dagli altri Giocatori E... Perchè questo È proprio arrogante È proprio un personaggio arrogante Spaga tutto Distrugge tutto Adoro Eh vedo che va un po' lenta la connessione Spero non lagchi Perchè se lagga ovviamente Se succedono le cose Il mio personaggio resta fermo E muore Come è successo prima E... Che tu schiacci e non fa quello che gli dice Perchè appunto è tutto bloccato Eh... Non è buon segno Ci sono tutti i caricamenti bloccati C'è anche sul gin Quello con l'accento Tessuta Selezionare un talento E prepararsi all'attacco Magnifico Proprio tu Alla fine Morirai come tutti gli altri Ecco I patetici mortali Conosceranno il vero potere La battaglia inizia fra Dieci secondi Cinque Quattro Tre Due Uno Che la battaglia A di Dottoraleato Jack Sì Sì Siamo già senza un giocatore Perchè non gli va la connessione E' bloccato lì all'inizio Al nucleo Vabbè Farò io per due persone Con la mia arrocanza Questo reale E' condannato Di Di Morire I tuoi sforzi Sono insignificanti Posso prendere però le palline Non ho il mana Ho questa barra qua Del fuoco Che Più è È carica È più fuoco E' il mio padre Il mio padre Bisogno di assistenza Sta per giungere Nostro alleato Perchè Il mio padre È il prossimo Senza un giocatore praticamente una vittoria minore ma comunque importante basta quante segnali stanno facendo il mio parla tantissimo ancora ma basta ecco quelli che ti dicono come fare con l'ambastizio perché li sto togliando così poco vita ottimo siamo stessi giocatori no fallo andar via abbiamo preso quel mercenario che è molto forte è un samurai dolore e tormento che belle queste frasi molto smr mi dico un attimo sto arrivando stai calmo manco ancora 8 secondi devo passare dal ponte ok eh ma questo qua vado là non posso stupiarmi vabbè sto io al carico questo reame è condannato è stato lento il gioco sono proprio già schiacciato da un pezzo io c'è la collezione che sta andando un po' così niente è bene lo stesso mi ha rubato due kill sono colpito è bene lo stesso è bene lo stesso quasi subito la kill quasi subito la kill attenzion ben fatto è quasi ruban le kill va bene così si rubano le kill è quasi rubano le kill venga è quasi rubano le kill non c'è niente qua non c'è niente qua non è che si è spostato non c'è niente qua ti sognerai stanotte tutte le frasi di deathwing che palle questo qua che vuole dirti come fare ecco a me non piace così hai visto tutti gli esempi delle partite che non mi piacciono ovvero Oscar no sto scherzando andiamo a scordare il carico che è il tributo di questa mappa non c'è niente qua potrei fare la molla l'ultimente vedi che è allagato riuscire a uccidere la male per un secondo visto che si è bloccato vabbè non trovo il baby perchè il ball sta rubando le kill però va bene lo stesso dolore tormento dolore tormento dolore torno dolore dolore almeno nella polvere non lo ha detto eh però qua mi romano le kill che mi romano le kill e non va bene mi romano le bolla Guarda che bella eh eh eh, dai in quanto? per marechie, per marechie per marechie per marechie per riscita lambe sta morendo il panda sta morendo il panda stava morendo si è salvato per miracolo allora ruba tutte le kill grazie al cacchio attacca briche 31% dei danni scontri di quadra si ma rubare kill va bene ah mi è scrocchiata la caviglia allora di solito quando gioco Death Week sempre mvp gioco registrandomi neanche un mvp ma non importa ah ho fatto un'ora di registrazione quindi basta, fermo qua guarda è talmente grosso che non ci sta neanche nell'inquadratura spero che questo video ti abbia fatto rilassare io ti auguro come sempre riposi in un pomeridiano buonanotte buon relax ciao creatora ciao